Suono in un film può essere un elemento narrativo molto forte e che lo si può usare in modo anche molto creativo. Mi è venuto in mente subito David Lang, che è esattamente un tipo di musicista contemporaneo capace di alternare l'alto ma anche all'accessibile. Quindi mi è sembrato un compositore migliore per questo tipo di film, per il personaggio. Non ti preoccupi di lavoro? Non a tutto. Io lavoro troppo, comunque. Quindi, cosa ti preoccupi? Mi preoccupi di mia mamma. Paolo può fare nessuno che è confrontato il suo figlio, ma cosa che è molto importante su musica, che è molto importante, è che musica è stata creata in la prima volta, ma musica bisogna essere riuscita sempre in order per fare in fronte di fronte. Cosa? 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 Ballinger is in the process of getting comfortable with expressing himself musically after years of taking time off and the way I wanted to show this was little fragments which grow, little phrases which get longer. He has to live his life not as a legacy but as a person. And I think everyone in this film is struggling with that issue in a different way or engaging with that issue in a different way. I think everybody who watches this movie will have some thoughts about their lives because it's very, very profound. When film and music work together that way, that's a very, very powerful combination. And our film makes ya very, very powerful moment. grew up to us. . Grazie a tutti